Registrazione video in 4K da Samsung Galaxy Note 4, abbiamo un limite temporale di 5 minuti per registrare un video simile Pan rapido, zoom 8x sul condizionatore che non trovo, eccolo qua, zoom 8x Torniamo indietro, nella registrazione in 4K non è presente la stabilizzazione ottica dell'immagine Cambio di luce, cambio di messa a fuoco e di nuovo all'infinito Registrazione video in 4K, Samsung Galaxy Note 4